Il film che è stato invitato quest'anno al Festival Television Today dalla mia produzione si intitola Confortorio ed è però il secondo atto di una trilogia. L'idea di questa trilogia nasceva da un lavoro che mi ha costato dieci anni di studio sui Vangeli. Da questo studio di dieci anni sui Vangeli è nato un film che si titola Il bacio di Suda che è il primo capitolo della trilogia. Il primo film è chiamato The Judas Kiss. Studiando i Vangeli ho fatto una piccola riflessione. Ho immaginato una situazione nella quale si creava una contraddizione tra il testo evangelico originale e le risposte successive nella storia che da questo Vangelo sono uscite. I Vangeli parlano di un uomo, Cristo, che è nato, vissuto e morto da ebreo. Nella sua parola è stato probabilmente il primo pensatore, il primo uomo, il primo filosofo, il primo grande personaggio della storia del bacino del Mediterraneo che ha posto la figura femminile accanto a quella maschile, sullo stesso piano. Bene, da questo testo, da questo Vangelo, è nata una religione, la religione cattolica, la religione cattolica apostolica romana, che nei secoli si è consolidata come potere. E come ogni potere, ogni potere costituito, che ha una sua struttura, che ha una sua identità forte, ha bisogno di avere dei nemici, dei nemici, degli avversari, delle figure contro le quali contrastare. Ogni potere nella storia ha sempre avuto bisogno di confrontarsi con un altro potere e di entrare in conflitto. La mia riflessione mi ha portato a considerare il fatto che nei secoli il potere dominante della Chiesa cattolica apostolica romana ha scelto due figure emblematiche come avversari, come elementi da contrastare. E questi due elementi erano gli ebrei e le donne. Questa mi sembra una grande contraddizione. È una grande contraddizione, in fact. Allora su questa contraddizione ho creato questa trilogia dove appunto il primo film illustra secondo me gli elementi più importanti della parola del Cristo, mentre gli altri due film sono appunto Confortorio e Costanza adibiano che illustrano proprio la violenza che si è prodotta sugli ebrei e sulle donne dal punto di vista dalla parte della Chiesa cattolica. Il bacio da Giuda è un film sulla parola del Cristo. E le altre due film rappresentano in qualche modo l'antisemitismo e l'antifemminismo. Per cui quello che vedrete in questa riunione, in questo festival è solo un frammento diciamo del mio discorso che forse proprio per il tema di quest'anno sarebbe stato interessante visitarlo tutto insomma in qualche modo. L'altra cosa che posso dire è che Costanza adibiano il terzo capitolo della teologia è stato proiettato qui al festival di Revision Today nel 2000 se non sbaglio 2001 e a me pare molto apprezzato perché mi pare vince il primo speciale della giuria nel festival per cui voglio dire Ah, ok The third film Costanza di Libiano was shown in 2001 was it? Wow And he won a prize a special jury prize here at Revision Today at the time which is the third film of the trilogy. Ecco questo per quanto riguarda i contenuti del mio lavoro per quanto riguarda la forma del mio lavoro e invece io penso che ogni storia ha bisogno di un proprio linguaggio ogni opera in qualche modo deve essere raccontata con un linguaggio specifico per cui ogni volta che affronto un tema mi pongo non solo il problema di come raccontare quel determinato tema dal punto di vista proprio narrativo semplicemente visivo ma anche dal punto di vista della scrittura cinematografica per cui la scelta delle inquadrature la scelta delle sequenze il modo stesso di muovere la macchina o di tenere la ferma cioè questi elementi che fanno parte della scrittura cinematografica sono per me importantissimi per esprimere fino in fondo il senso della documentazione che il film vuole rappresentare quindi ogni volta che inizio a fare un film faccio la scelta non solo come raccontare la storia e i aspetti narrativi ma come esattamente raccontare la storia con le film che ho usato con tutti i aspetti tecnici esattamente quale lingua è più adattabile a quella particolare storia siccome questi film sono tutti film storici io cerco ogni volta di di riflettere sullo sguardo dell'epoca che vado rappresentando cioè se io racconto una storia ambientata nel 1500 come nel caso della strega di Costanza Libiano cerco di capire quale fosse lo sguardo degli uomini di quel tempo per cui questa riflessione sullo sguardo come la posso trovare la posso trovare nei pittori che hanno operato in quell'epoca in quella data zona in quella zona proprio geografica in quell'epoca sono loro che mi dicono come gli uomini guardavano il mondo e io cerco con la cinepresa di guardare il mondo come lo guardavano gli uomini in quell'epoca ecco quando ho girato Confortorio il film che vedrete domani mi sono posto il problema di come fotografare questa storia perché la storia si svolge nella prima metà del 1700 nello Stato Pontificio e il 1736 e per cui mi sono posto il problema di come fosse la pittura in quell'epoca 36 so the film that you will see tomorrow afternoon Confortorio for example is set in the papal state in 1736 and so he tried to imagine what it was like to be there in that period ho scoperto che mentre l'illuminismo a livello europeo aveva illuminato la pittura per cui i pittori come Claude Lorraine cioè come i pittori contemporanei all'epoca che andavo indagando avessero illuminato le proprie tele di colori chiari di luci tenui rosa gialli eccetera mi sono reso conto che invece nello stato pontificio conservatore si continuava a produrre una pittura che era diciamo del secolo precedente una pittura post caravaggesca infatti chi lavorava erano ciamminghi di scuola post caravaggesca e così niente per cui il film è anche un documentario non è solo un documentario su un evento su un fatto è anche un documentario su uno sguardo perché io penso che non si possa comprendere una storia del passato con la testa con il modo di pensare del presente per poter capire poter giudicare soprattutto una storia del passato bisogna fare lo sforzo di dimenticare tutta la nostra storia contemporanea e tentare di guardare quel mondo con gli occhi di allora per questo motivo io non mi ritengo un regista di fiction mi ritengo un documentarista uno che fa dei documentari e anche se sembrano film se sembrano fiction in realtà sono dei documentari perché dietro c'è un grande lavoro di documentazione storica ma c'è anche un grande lavoro di documentazione sullo sguardo sulla storia anche del sentire e del rapportarsi agli eventi e se in questo modo analizzo tutti i miei film negli ultimi 44 anni che faccio cinema mi rendo conto che ho solo fatto documentari grazie scusate qui presente in sala c'è mia moglie che è la mia collaboratrice con la quale ho realizzato gli ultimi tre film insieme a lei della mia filmografia Paola Barone this is Paolo's wife e volevo aggiungere delle cose sul lavoro di Paolo che ovviamente conosco molto bene e soprattutto ho lavorato con lui da Costanza di Libiano this is Paolo's wife who has worked with him closely on the last films especially Costanza di Libiano e volevo un attimo rispondere al rapporto tra violenza e religione nel cinema di Paolo nel senso che Paolo e il nostro cinema si rapportano con un grande lavoro sui documenti e quindi nel caso di Confortorio per parlare di questa storia di queste piccole persone perché si parla di due ebrei condannati perché avevano rubato furto con scasso anche in la storia di Confortorio e abbiamo due jewi che erano in prison perché avevano scelto il pieno che sono scelto e ha fatto un grande lavoro di ricerca in cui si poteva documentare esattamente cosa è successo in quella notte questo per avere una correttezza tra quello che è la tra virgolette o violenza o l'uso che era considerato violento da parte del potere rispetto a queste piccole persone e lo stesso in Costanza Dalipiano abbiamo trovato proprio l'archivio e ha familiato il verbale con esattamente tutto il racconto lunghissimo delle varie torture del processo dell'inquisizione che questa donna ha subito questo per rispondere che sono storie inventate delle piccole persone persone che non hanno grande storia dietro di sé va documentata perché chiaramente la storia invece della chiesa cattolica postolica romana è tanta e quindi giustamente bisogna essere corretti per poter muoversi in questo senso e raccontare in questi film vediamo le storie dei marginali dei piccoli persone quindi è molto importante che loro storie sia anche documentata e non solo la storia della Cattolica per esempio abbiamo molti evidenzi di questo ma è importante che possiamo conservare le storie le storie di queste piccole marginali persone e volevo scusa un attimo poi ti lascio la parola ci tengo molto perché io anche del uso della violenza di come Paolo racconta questa violenza all'interno del suo film perché io mi sono proprio innamorata di lui da spettatrice vedendo questo film che vedete domani come riccio perché in un momento per questo sono intervenuta perché io odio assolutamente la violenza rappresentata rappresentata sullo schermo e in un momento preciso del film che non vi dico quale mi sono dedicata a spettatrice se mi fa vedere tutta la scena della tortura io esco e me ne vado non mi interessa questo tipo di cinema e se invece stacca un attimo prima posso rimanere perché non mi interessa questo boiarismo come posso dire sulla violenza ma mi interessa raccontare in modo per me corretto rispetto alle mie emozioni di spettatrice so while she was watching this film the torture scene of the witch in the film she thought for a moment I really don't want to see this scene of torture let's see if it will cut and we don't see too much in which case I can stay and watch the rest of the film or if it's going to be a scene of torture which goes on and on I'll have to leave ecco ho passato esattamente dove oltre sarebbe stato troppo per me e per il momento e poi questo per dire che poi abbiamo lavorato insieme perché è importante chiaramente anche come rappresentare ecco questo rapporto con la mia gente grazie grazie sì volevo aggiungere solo una cosa per me piacevole il primo film il basso di juda che è uscito nel 1988 al festival di venezia è stato giudicato dalla scei inaccettabile forviante e proibito in tutte le case e in tutte le sale parrocchiali italiane il primo film di giudas che è uscito che è uscito in 1988 il festival di cinema in venezia in venice è stato giudito di essere inadmissibile per cui non ha mai circolato perché essendo un film da cineforum cineclub e siccome cineclub e cineforum sono 90% nelle sale parrocchiali il film non ha mai circolato 25 anni dopo cioè l'anno scorso mi è arrivata una telefonata dalla Cineteca Nazionale dove il film dove il negativo del film è depositato film mai visto da nessuno praticamente mi hanno telefonato per avvertirmi che la Scei voleva stampare restaurare la coppia e stamparla la Scei la conferenza episcopale italiana per cui io ho seguito il restauro del film che è stato proiettato in un convegno di teologi in un convegno internazionale di due giorni sul film a Roma all'Università Lateranense e siamo stati invitati a presentarlo e quando io ho detto ho raccontato al pubblico presente in sala c'erano esperti di tutto il mondo dai russi agli americani c'era veramente una grande riunione ho spiegato questa storia del film che era stato censurato e poi dopo sono ritirato fuori dalla censura un monsignore che era seduto accanto a me mi ha detto ma noi della chiesa ragioniamo a millenni 25 anni che cosa sono? e a questa grande conferenza teologica il film era mostrato e il monsignore un cattolico vicino a lui ha detto grazie